Iniziano il campionato di Serie 1 di Hockey su pista con tre punti campioni d'Italia dell'Hockey Forte dei Marmi che hanno espugnato la pista della neopromossa Montebello con il punteggio di 5 a 0. I rosso-blu recenti vincitori della Supercoppa italiana con il Breganze hanno messo le cose in chiaro sin dal primo tempo con la doppietta del solito intramontabile Federico Ambrosio e il neoacquisto Xavi Rubio difensore con il vizio del gol. Nel finale della partita sono arrivate le altre due reti per il definitivo 5 a 0 con Mattugini che in questo inizio di stagione ha già trovato il suo spazio in pista e Burgaia che hanno permesso alla squadra di Pierluigi Bresciani di poter iniziare subito bene il campionato che vede nei pronostici degli addetti ai lavori malgrado i rinforzi di Trissino e Valdagno il Forte dei Marmi essere sicuramente tra le squadre da battere e l'inizio di questa stagione positivo lo sta già ampiamente dimostrando